Operazione all'alba dei carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania a conclusione di un'indagine della locale Procura della Repubblica. I militari hanno eseguito quattro misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti accusati di istigazione alla corruzione nell'ambito di una gara d'appalto. L'intervento dei carabinieri si è svolto fra Torchiara, Castellabate e Canalonga. In manette tre funzionari tecnici ed un imprenditore. I dettagli dell'operazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza tenutasi questa mattina presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Vallo della Lucania.